Uno spazio di preghiera rivolto al venerabile Don Antonio Pennacchi, con il quale la diocesi di Assisino, c'era Umbra Gualdotadino, invita i fedeli a rivolgersi al sacerdote, la cui vita è ricca di spunti e di momenti di grande spiritualità, e per cui procede il processo di beatificazione fortemente voluto dal vescovo Monsignor Domenico Sorrentino. Per questo ogni martedì nella pagina Facebook della diocesi di Assisino, c'era Umbra Gualdotadino, sarà pubblicata la sua preghiera, le richieste dei fedeli o episodi significativi relativi alla sua vita. Già è attivo un sito internet www.donantoniopennacchi.it e un banner sulla home page del sito della diocesi www.diocesiassisi.it, dove si possono trovare tutte le notizie sul venerabile. Chiunque lo vorrà potrà chiedere l'intercessione del prete, dell'Angelus Domini, e inviare una richiesta di preghiera. Sono sempre di più quelli che si avvicinano al venerabile Don Antonio Pennacchi, spiega il postulatore della causa, Suora Alessandra Rusca. La vita, le opere e le testimonianze sono veramente esemplari e sono in aumento coloro che si recano sulla tomba, collocata nell'abbazia di San Pietro, qui in Assisi, per venerarlo e chiedere la sua intercessione. Ora attendiamo il miracolo.